- 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 Nei guai No Rega vado in acqua Teoricamente mi salvo Teoricamente Sì Meno male Meno male che ho frenato Là fuori dalla zona Dobbiamo trovare un punto Dove saltare E andare per di là Che si è nascosta a radar Qualcuno ha visto Un Pietropio Dai Dove sta Eh no ma è un Porkman Junior E dove sta No Pietropio Dove è Pietropio Non ci ho capito niente Rega Ti muoce qui Ah no lui sta su Ma dove sta Rega non lo so Oppure sei vintimato qui No ho sbagliato Devo fare tipo un doppio rimbalzo Ok abbiamo vinto Ci possiamo buttare Rega Sì abbiamo vinto Abbiamo vinto Round vincitore Prossimo round Ok terzo round Ecco questa è la Mystery Chaos Rega Qua subito si fanno Delle belle kill Delle belle kill facili Mai vista la scramjet Così facile da prendere Buono È buonissimo Si ricommentiamo Senza turbo Rega Sì senza turbo I'm great Perdonami No questa Andiamo semente Dove sta Oh c'è una scramjet C'è c'è un'oppressorina C'è un'oppressorina Rega C'è un tantolini preso In pieno Non si sa come Condivise 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 Sì 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 Prendi un'arma No meglio Sputate Dove sta Via 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 Fuggiamo 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 Quale via no è Mamma mia Mamma mia Mamma mia Rega Vediamo Questa è partita Vincitore Partita vincitore Abbiamo altri due round Ok rega Altri due round Con la neve Questa volta Il panico succederà Veramente Il panico Del panico Del panico Corri 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 Ma te però Oh mio dio Con tu scivola Incidenti Buono Buono che fanno incidenti No No La cascata No Non è caduta Rega Non ci voglio Credere Ci potremmo quasi Fermare Ok Non hanno preso Nulla Questo è Alquanto positivo Oh Dai questa me la prendo Non ce la farò mai E poi mai A prendere Quest Sei Sali Ma te No Non ci voglio Crede Ma perché Ma una volta Non partiva Già con i missili Perché li devo Cercare io Eh fa niente Fa niente Ok Secondo round Questa volta Leggermente più Fortunati Cortesemente Carina la neve Su PS5 Spettacolare Allora A te Rive con me Sei sicuro Passiamo per di qua Ma a te Si può Si può Ok Allora No No Regancio Io credi Non mi dichiara Nemico Perché con la neve Scivola Regà Non possiamo usare Nemmeno dei freni Particolari No Non ho Scrumjet No I'm great Non mi colpire A me Ah Dario Sergio Abbiamo vinto Ah si perché Tutti quelli della mia squadra Ok Round vincitore Prossimo round Ok Terzo round Regà Non è così facile Però eh A meno che Non usiamo il glitch Dal freno Allora si diventa Super mega easy Allora Ci riproviamo Matteo Senza turbo Mi devo regola bene Maddo Sembrava quasi glitch No 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 su Via Via Ma te Ce l'hai fatta a prendere la macchina Spero di si Io spero ovviamente di si Chiede Do stanno le killer Regà Do sta la gente Dove sono le kill Dove sono Regà Non ce ne sono Perché non Accelera Arato Regà Oh belle ste kill Così Ma favolose Favolose Per terminare Il video Sì 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 Matteo è vivo Perfetto Dove Ah lì Preso Abbiamo vinto Abbiamo vinto Regà Era sempre C'è il suino Che avevo buttato Giù dalla scrum Certo Vediamo Vediamo Partita vincitore Se vi è piaciuto La mystery box Di Matteo Credo Matteo Sicuramente Non mi ricordo Perché aveva scritto Solamente Matteo Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Noi ci becchiamo Ciao